E' stato presentato nel corso del Consiglio Comunale svoltosi a Villa Bertelli il bilancio di previsione del Comune di Forte dei Marmi, un bilancio che si chiude con un avanzo presunto di oltre 20.000 euro su un totale complessivo di oltre 37.000 euro di spese correnti, in linea con l'assestato del 2017. Il bilancio sarà portato in approvazione nella prossima sise consigliare. Decisamente soddisfatto l'assessore alle finanze del Comune Forte Marmino, Andrea Mazzoni. Il primo bilancio che approviamo è un bilancio che abbiamo studiato in modo molto attento, infatti abbiamo preferito inserire tutte le spese dovute senza poi dover utilizzare l'avanzo di amministrazione col consuntivo e quindi cercare di rendere ogni capitolo di spesa bene aderente a quelle che sono le nostre prospettive. Le novità sensibili di quest'anno sono che abbiamo inserito anche dei capitoli nuovi di spesa che non hanno mai stati inseriti, uno che riteniamo molto importante perché un punto sul quale stiamo cercando di puntare con l'amministrazione è quello del decoro urbano. Infatti abbiamo inserito un nuovo capitolo di 100.000 euro di disponibilità all'interno ovviamente del settore dei lavori pubblici per il decoro urbano. E un altro capitolo è quello della sicurezza di 50.000 euro proprio per spese specifiche per tutelare la sicurezza dei cittadini. Il Consiglio ha poi approvato la conferma della liquota zero per la Tasi modificato invece allo scopo di andare incontro alle esigenze dei cittadini il regolamento dell'imposta unica dei comuni con la previsione di portare a 3 le ratezzazioni del pagamento dell'imposta attualmente ferme a 2. Le nuove scadenze saranno il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Infine è stata introdotta nel regolamento della Tari la possibilità di vedere riconosciuto uno sconto sui costi grazie al conferimento diretto al centro di raccolta di via Olmi che partirà al momento dell'avvio del servizio previsto a tempi brevi.